buongiorno sono jonathan moreno responsabile della gamma sospensione ntn europe per l'aftermarket oggi ho il piacere di incontrarvi nell'officina di embre buongiorno embre buongiorno come sa tutti gli ammortizzatori a gas snr sono progettati per facilitare il montaggio grazie alla pressione incorporata l'ha notato durante le riparazioni certamente con la pressione incorporata l'asta si estende senza sforzo è quindi più facile reinstallare la gamba elastica con l'ammortizzatore la molla e la coppa dell'ammortizzatore in questo modo si risparmia tempo e fatica durante l'installazione emre perché ha scelto i nostri ammortizzatori utilizzo il marchio snr ormai da diversi anni installo cuscinetti kit reggispinta sospensione e kit distribuzione sui veicoli la qualità è sempre presente per me è stato naturale montare gli ammortizzatori snr disponibili presso il mio distributore abituale emre i nostri ammortizzatori soddisfano le sue esigenze si qualità facili da montare risparmio di tempo sono perfetti per me grazie emre degli ammortizzatori snr non è una sorpresa ma un dato di fatto grazie a tutti